Sì, sì, sempre siamo insieme con lui, lui adesso sta facendo un grande campionato, ogni partita si impegna per dare il massimo, io lo sigo in allenamento, devo stare al 100% sanamente come dici tu per alcanza questo livello e quando il mister decida credo io che farlo è la migliore forma.